Se avete riscontrato un errore riguardo a Windows Defender che non potete attivare così l'antivirus quindi il vostro dispositivo è vulnerabile quindi in questo caso è possibile attivare l'antivirus tutto attraverso il recit quindi se è controllato dalla tua organizzazione vuol dire che non hai il controllo completo su Windows Defender quindi andiamo un attimo sul nostro regedit e segui come amministratore il regedit fai editor quindi editor del registro di sistema e segui come amministratore una volta fatto entra così nella cartella hk local machine entra così nella cartella software scendi fino a giù fino a trovare così la cartella policies microsoft e va in Windows Defender una volta fatto entra così nella cartella Windows Defender e se in una di queste cartelle Windows Defender o policies manager c'è un file di nome disable anti spyware tu elimina così quel parametro una volta eliminato puoi riattivare il tuo antivirus come puoi vedere protezione da virus e minacce e il mio provider che è collegato a Windows Defender è Avast antivirus quindi è Avast a prendersi cura del mio computer e proteggermi da ogni minaccia per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao